Laura Forgia piange ai fatti vostri, lascio Girls gridata in diretta Laura Forgia in lacrime ai fatti vostri, cosa è successo? Lascio Girls gridata da Michele Guardi. . Problemi in diretta per Laura Forgia ai fatti vostri. L'ex professoressa dell'eredità è scoppiata a piangere in un frangente del programma di Rai 2, che conduce da quest'anno in coppia con il veterano Giancarlo Magalli. . Cosa è successo? In realtà non si conosce bene il motivo del pianto dell'Italo svedese ma solo qualche minuto prima la giovane era stata sgridata da Michele Guardi, storico regista del programma. . L'uomo aveva rimproverato Laura per un errore commesso durante il gioco delle buste. Un errore per il quale Magalli ha subito preso le difese della collega ma che però non sono bastate a contenere la rabbia di Guardi. . I fatti vostri, Michele Guardi rimprovera Magalli e Laura Forgia. . Nella puntata di giovedì 5 ottobre, durante il gioco delle buste, una signora in collegamento telefonico ha scelto la busta A, ma i padroni di casa Giancarlo Magalli e Laura Forgia si sono confusi e hanno estratto la B. . . Un errore che non è parso perdonabile a Michele Guardi, tanto che ha rimproverato i conduttori in diretta tv. La signora ha detto la A concentriamoci, tanto una cosa dovete fate, fatela così il regista ha strigliato i suoi collaboratori. . . L'ex tentatrice di Temptation Island si è subito giustificata ribadendo, sono rimasta alla musica e all'amore di Jody Tomo. Il cantante si era infatti esibito poco prima in una struggente cover di questo piccolo grande amore di Claudio Baglioni. . . La scusa non è bastata a Michele, che ha sottolineato, sì, sì, e perciò poi cala il gioco, perché fate una cosa che non deve succedere. Laura Forgia prima difesa da Magalli poi le lacrime in diretta tv. . . Immediatamente è intervenuto Magalli, che ha invitato Guardia a discutere di certi dettagli altrove e non di certo davanti alle telecamere. Ma comitato, poi ce le possiamo dire al bar queste cose? Non è che ce le dobbiamo dire qua per forza ha puntualizzato Giancarlo. . Qualche minuto dopo, durante uno spazio dedicato a Papa Giovanni XXIII, sul volto della Forgia sono apparse delle lacrime. . . Momento di commozione per il ricordo del pontifice o dolore dovuto alla ramanzina di poco prima? Per il momento Laura ha preferito non fornire ulteriori dettagli, né in puntata né su social network dove è sempre molto attimo. . . Cosa sarà successo? Per ora il mistero rimane.